Oh, l'Unione Europea vuole 10 euro per ogni giorno di ritardo su ogni dose di vaccino. Dai che forse abbiamo trovato i soldi per il recovery plan. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo del mega risarcimento chiesto dall'Unione Europea a AstraZeneca, degli arresti per l'incidente della funivia e di un rapporto sulla fuga dei neolaureati dall'Italia. Lunedì vi avevo detto che, benché la caduta di una cabina dalla funivia Stresa-Mottarone con la morte di 14 persone fosse senza dubbio la notizia più importante della settimana, non ve ne avrei parlato perché qui su Newsbox cerco di spiegare le notizie e le indagini sulle cause di questo incidente avrebbero richiesto settimane o mesi. In realtà l'inchiesta ha avuto un'improvvisa accelerazione nelle ultime ore e la dinamica di quello che è accaduto sembra improvvisamente chiarissima. Dunque parliamone con una premessa. Quella comunicata in queste ore è la versione degli inquirenti, cioè dei magistrati che stanno indagando sul disastro con la collaborazione delle forze dell'ordine. È una versione che sembra basata su indizi molto solidi, tra cui a quanto pare le ammissioni di alcuni responsabili della funivia che sono stati arrestati. Ma molti punti importanti restano ancora oscuri e comunque se ci sarà un momento in cui potremmo dire di sapere in maniera ufficiale e definitiva quello che è successo sul Mottarone, le sue cause e le responsabilità, sarà al termine dei processi in cui le carte dell'inchiesta saranno lette, esaminate e giudicate. Quindi tra alcuni anni. Tutto ciò premesso, vediamo cosa sappiamo finora. Gli inquirenti hanno esaminato i video girati dalle telecamere di sorveglianza, che mostrano molto chiaramente quello che è successo. La cabina della funivia era praticamente alla stazione di arrivo, quando improvvisamente la si vede tornare indietro a forte velocità. Nelle funivie le cabine sono appese a dei cavi, detti portanti, che le sostengono nel vuoto. Tra questi cavi ne scorre un altro, detto trainante, che gira continuamente come la catena di una bicicletta. È agganciandosi a questo cavo che le cabine si fanno trascinare lungo il circuito della funivia. Quindi i cavi a cui le cabine sono appese non sono gli stessi che le fanno camminare. L'ipotesi degli inquirenti è che quando la cabina era quasi arrivata in cima al Mottarone, il cavo trainante per qualche motivo si sia spezzato. A quel punto la cabina, non avendo più il cavo che la trainava, ha iniziato a riscendere verso valle sempre più veloce, per gravità. Il momento in cui la cabina cade nel vuoto non è stato ripreso dalle telecamere. L'ipotesi è che arrivata all'altezza di uno dei piloni che sostengono la funivia sia stata sbalzata fuori dai cavi a causa della velocità. Questo tipo di incidente è tutt'altro che imprevisto, ed è il motivo per cui le funivie, come anche gli ascensori per esempio, hanno dei freni di emergenza che si attivano automaticamente, proprio in situazioni come queste, quando la cabina inizia a scorrere troppo rapidamente sui cavi. Quello che gli investigatori hanno scoperto, e che è confermato anche dalle immagini fatte dai soccorritori subito dopo l'incidente, è che i freni di emergenza erano stati disattivati volontariamente, inserendoci degli arnesi chiamati forchettoni. Per qualche ora si è pensato a una distrazione, a un oggetto dimenticato magari da un tecnico alla fine di qualche procedura di manutenzione. Invece, stando a quanto hanno riferito i carabinieri, i responsabili dell'impianto avrebbero ammesso negli interrogatori di aver volontariamente inserito questi forchettoni perché la funivia aveva un malfunzionamento che faceva attivare i freni di emergenza anche quando non ce n'era bisogno. Sistemare questa anomalia avrebbe richiesto un intervento abbastanza complicato da tenere chiuso l'impianto per qualche tempo e quindi è stato deciso di risolvere intanto il problema così, facendo funzionare la funivia con l'impianto d'emergenza disattivato a mano, scommettendo sul fatto che non ci sarebbe stata nessuna emergenza da affrontare. Come è finita purtroppo lo sapete. Resta ancora il mistero su cosa abbia provocato la rottura del cavo trainante, visto che l'impianto era comunque sottoposto a regolare manutenzione. Sta finendo molto male lo scontro tra l'Unione Europea e AstraZeneca sul vaccino anti-covid. La vicenda la ricorderete, l'Unione Europea aveva firmato l'anno scorso un megacontratto con AstraZeneca che prevedeva la fornitura di 200 milioni di dosi di vaccino entro l'inizio di maggio, che sarebbero diventate 300 milioni entro la fine di giugno. Già a dicembre AstraZeneca aveva fatto presente di avere qualche problema di produzione che avrebbe potuto portare a qualche ritardo nelle consegne. Più tardi, eravamo già alla fine di gennaio, la casa farmaceutica aveva ammesso che i problemi erano ben più gravi del previsto e che la fornitura destinata ai 27 paesi dell'Unione Europea sarebbe stata tagliata di più della metà. Insomma, oggi l'Unione Europea ha presentato formale denuncia contro AstraZeneca in un tribunale di Bruxelles in Belgio, dove ha sede la Commissione Europea. I legali dell'Unione hanno chiesto un risarcimento d'anni che se fosse accettato potrebbe mettere in ginocchio AstraZeneca. 10 milioni di euro per ogni violazione contrattuale, più 10 euro per ogni giorno di ritardo su ogni dose a partire dal primo luglio. Considerando che il contratto prevede, come vi dicevo, 300 milioni di dosi per fine giugno, mentre AstraZeneca ha già detto che non ne consegnerà più di 100 milioni per quella data, parleremmo di un risarcimento di circa 2 miliardi di euro al giorno. Evidentemente non si tratta di un tentativo dell'Unione Europea di far fallire AstraZeneca, ma di costringerla a onorare il contratto. I rappresentanti dell'Unione accusano ormai apertamente l'azienda farmaceutica di aver scelto di dirottare buona parte delle dosi destinate all'Europa verso altri paesi, primo fra tutti la Gran Bretagna. Che a nord è il vero, va detto, ha firmato il suo contratto con AstraZeneca mesi prima rispetto all'Unione Europea. Proprio in un'intervista a Repubblica, il capo di AstraZeneca, Pascal Soriaux, aveva fatto presente che nel contratto con l'Europa non si parlava di garanzia assoluta di consegna delle dosi. Visto che si trattava di una situazione senza precedenti, cioè lo sviluppo di un vaccino in pochissimi mesi e la produzione in grandi quantità per distribuirlo in tutto il mondo, AstraZeneca aveva fatto scrivere nel contratto che avrebbe fatto del suo meglio per consegnare le dosi previste. Best effort, c'era scritto nella versione originale. Ma l'Unione Europea contesta anche questa difesa, segnalando che AstraZeneca ha usato gli impianti europei per produrre dosi da consegnare altrove, mentre non ha usato, per esempio, gli impianti inglesi per produrre dosi in più da consegnare all'Europa. Tra l'altro, proprio oggi è arrivato uno studio più approfondito dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, sulle presunte rarissime trombosi legate alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. In particolare, questo studio si concentra sulle seconde dosi, segnalando che su 9 milioni di somministrazioni in Gran Bretagna ci sono stati 15 casi di trombosi atipiche potenzialmente legate alla vaccinazione. Vi lascio con un altro studio non particolarmente confortante, diffuso oggi dalla Corte dei Conti sul sistema universitario italiano. C'è un dato, soprattutto, che fa impressione in questo rapporto. In otto anni, dal 2013 a oggi, il numero di ragazzi italiani che si trasferiscono all'estero dopo la laurea è cresciuto di più del 40%, il 41,8%, per l'esattezza. Questo studio ha analizzato tutte le 98 università italiane pubbliche e private. Negli ultimi dieci anni il numero di laureati in Italia è cresciuto, ma meno che negli altri paesi avanzati. E il motivo per cui i ragazzi non si iscrivono all'università o abbandonano gli studi prima della laurea, secondo la Corte dei Conti, è dovuto intanto al fatto che i costi dell'università gravano quasi esclusivamente sulle famiglie, visto che gli aiuti come le esenzioni o le borse di studio sono sempre più scarsi. E poi c'è la constatazione che la laurea non garantisce lavoro e guadagni migliori rispetto ai gradi più bassi dell'istruzione. Motivo per cui, anche tra quelli che alla fine si laureano, molti preferiscono andare all'estero, dove ritengono di poter avere un lavoro e un reddito più in linea con le loro attese. Sono le 21.15 di mercoledì 26 maggio 2021. Se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata, potete seguire Newsbox su qualunque piattaforma di podcast o installare la skill su Alex. Oppure potete iscrivervi al canale telegram t.me.newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. Ciao e a domani! Ciao!